ciao a tutti e benvenuti ciao a tutti e benvenuti nella taverna del giocatore io sono Monul e sono l'ultimo arrivato tra i master questa sera mi è stata data la possibilità di portare una one shot in live sono molto contento di questo e ringrazio subito l'organizzazione stasera siamo in quattro diciamo anzi in cinque se mi ci metto in mezzo anch'io ad affrontare una one shot che parlerà dell'inizio dell'ascesa di qualcosa nel mondo qualcosa che potrà forse andare finalmente a spezzare le gambe a un grande signore della guerra che negli ultimi 10-15 anni ha portato terrore e distruzione in tutta la valle del nord ma sto già andando troppo avanti volevo un attimo salutare tutti quanti far sì che loro potessero presentarsi un secondo so che alcuni sono dei veterani c'è una ragazza nuova come me e volevo farvi salutare fare in modo che loro vi salutare vai giova per le danze yes intanto ringraziamo chiunque ci stia osservando in questa one shot io sono Joe fondatrice della taverna discord e questa sera assieme ai miei compagni interpreterò una dragonide dalle scaglie bianche di nome Vixie Vixie sicuramente si inserirà all'interno di questa narrazione partendo da un background molto forte è un personaggio, è una chierica di cosa non ve lo dirò lascerò a voi scoprirlo esattamente su cosa punta la sua fede e la sua determinazione per il resto è una guerriera come tanti altri ma molto austera con degli obiettivi particolarmente forti sulla descrizione vi lascerò all'interno della nostra one shot quindi la sentirete all'interno della narrazione per il resto lascio la parola al nostro buon Davide così permettiamo ai nuovi arrivati di riscaldarsi un po' e di prendere un po' di confidenza con questa sessione Ciao a tutti, io sono Davide avete visto specialmente Harry nei panni di diversi personaggi buoni e non buoni ma stasera gioco un personaggio nuovo non è il Marchese, purtroppo per voi so che lo volete ma arriverà prima o poi stasera gioco Atticus è un misterioso mezzelfo anche lui guerriero, in questo caso Gunslinger ma in verità non proprio Gunslinger è non brood non brood perché a me piace farmi sottare dai master che vedremo se riuscirà a colpire qualcosa perché di solito va malissimo con lui però si prova dai ieri di prova possono confermarlo sì 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 ho fatto ieri di prova ho fatto 2-2-2-3-1 quindi andrà benissimo prego, chi è il prossimo? parlo io a questo punto vadi vadi ciao, mi sono Valker chi di voi ha una memoria più lunga di 6 mesi quindi non la mia che è quella del pesce rosso si ricorderà che un po' di tempo fa avevo giocato col buon Davide nel colpo a Leggida Rossa dove interpretavo l'impavido, eroico e maidomo Piccone oggi avevo effettivamente deciso di fare Piccone Junior tuttavia in un impeto di creatività ho deciso di giocare un paladino di nome Quinto che come indica il suo nome è il Quinto in ordine gerarchico nonché ultimo sopravvissuto nell'ambito della spedizione della compagine inviata dal suo ordine di conseguenza un uomo inviato probabilmente per portare le vettovaglie, gli scudi e come supporto morale che si trova a giocoforza in prima linea come se la caverà vediamo chi vivrà vedrà e speriamo che Quinto vivrà ti potrezzerò io grazie col 2,2,4,7 sono carico sono carico adesso sono tranquillissimo prego chi vuole sa che manco io ciao a tutti sono Chiara sono l'altra new entry insieme al master prima volta per me su Twitch porterò un piccolo esserino dalle scaglie scintillanti verdi con la testa molto grossa di nome Cocomero e niente il mio personaggio è un esperto costruttore di tunnel e si è trovato in questa situazione diciamo di ritorno da un'altra avventura in cui appunto è rimasto purtroppo l'ultimo l'ultimo superstite e gli è stata data la possibilità di come dire salire qualche altro gradino nella sua scalata verso diventare un eroe per la sua tribù e anche in realtà per parte della sua città penso che le presentazioni generiche le abbiamo fatte tutte quindi io taglierei corto e direi di addentrarci nel posto terribile e freddo dove questi avventurieri sono stati mandati a cercare qualcosa Sondalo circa circa tre settimane fa le cittadine di Siras e Creta hanno in fretta e furia dopo aver ricevuto un messaggio strano dalla città di Istrul dai sapienti di Istrul Istrul è una città che conserva tutto il sapere di tutta la valle del nord e probabilmente di tutta Eul tutto il continente la valle del nord da sola è paragonabile alla nostra Francia quindi è molto grande tutta Eul è quasi dieci valli del nord Istrul ha mandato un messaggio alla cittadina di Siras in cui si diceva che erano riuscite a intercettare dei pensieri attraverso la trama magica come se dei piccoli filamenti di quello che un messaggio magico porta da una parte all'altra si fossero sfilacciati e con grande sorpresa erano riusciti a intercettare una trasmissione di qualcosa dicendo mandando questo messaggio e dicendo a chi l'avrebbe ricevuto il capo città di Siras Gesutta un certo Gesutta Fritta che probabilmente uno degli prossimi obiettivi di Ertuverro sarebbe stato rientrare in possesso di un'ennesima reliquia le reliquie sono potentissime hanno dei poteri strani alcune sono della prima era alcune della seconda alcune addirittura risalgono ai tempi degli antichi elfi quella razza terribile tremenda che ha portato tutte le altre razze su questo mondo attraverso portali aperti squarciando il cielo e rapendo tutte le razze umanoidi portandole in questo mondo come schiavi dopo di ciò c'è stato l'avvento di Neopros che ha liberato tutte le razze il grande drago d'ombra e poi ancora Rhodes il grande drago d'oro nato da un grande uovo nel cielo come un secondo sole ma questa è tutta la storia del mondo quello che ci interessa a noi è il messaggio il messaggio parla di una reliquia probabilmente parla dell'occhio di Utgar una reliquia che era andata persa non è precisamente un occhio è qualcosa che Utgar portava con sé fino a che non è stato ammazzato nel suo letto di 83enne ormai imperatore partito per capire se un suo incubo era vero cioè che Rhodes e Neopros fossero la stessa cosa non seppe mai la verità chi ha vissuto gli anni dopo l'ha saputo perché Rhodes è tornato e effettivamente Rhodes e Neopros erano la stessa cosa un'anima divisa in due in un corpo solo questi avventurieri partiti circa tre settimane fa erano in 15 una grande carovana di mercenari caricati di ori caricati di averi e di suppellettili il viaggio era abbastanza lungo superare la faglia il primo grande ostacolo la faglia è un'apertura che Ertuverro ha portato su questo piano portando un piccolo pezzo dell'abisso sul piano materiale dal quale sciamano sempre creature infernali demoniache che si spandono nelle foreste del mondo superare la faglia è stato molto complicato ha richiesto dei sacrifici in pochi ce l'hanno fatta ancora dopo superare tutta la fase dopo le foreste fino ad arrivare a dove sorgeva una volta la grande torre e tempio di Rhodes lì il messaggio vi ha portato effettivamente avete trovato qualcosa non pensavate fosse la torre e tempio perché era un ingresso scavato nella roccia anonimo ma la vostra testardaggine vi ha fatto indagare siete entrati dentro eravate ancora in sei qualcuno però all'interno di questi corridoi stretti intrisi di muffa e polvere con pochissimo spazio per tutte le manovre fisiche che siete stati costretti a compiere due dei vostri compagni non ce l'hanno non ce l'hanno fatta l'ultimo pezzo che avete attraversato in questi corridoi angusti sotto terra vi ha portato fino a un passaggio ancora più stretto in cui in fondo si incominciava a sentire un odore diverso chi di voi ha una capacità differente di sentire gli odori il piccolo Co che nei tunnel si trova a suo agio ha detto che in quella direzione c'era qualcosa di diverso e così l'avete seguito avete seguito il piccolo Co ma mentre camminavate il sentiero dietro di voi ha cominciato a corrollare e quindi è stata una corsa forse è nata fino ad arrivare in una grande stanza distruggendo praticamente una parete a spallate perché sembrava chiusa da poco recentemente o comunque non una di quelle pareti destinate a resistere per sempre questa grande stanza che vi si è aperta intorno era adornata con un grande mosaico al centro bombato verso il basso ad arco raffigurava un enorme occhio draconico delle scaglie di vari colori erano sistemate tutte intorno a un'iride centrale striata larga qualche centimetro che puntava al centro su un altare disadorno completamente disadorno una piccola una piccola pietra semplicissima sosteneva a pochi centimetri dall'iride un piccolo medaglione che espandeva nella nella stanza una sottilissima luce dorata qualcosa che per un attimo vi ha fatto ritrovare la pace e la tranquillità vi ha fatto riposare e capire che intorno a voi per un attimo ci poteva essere la pace quando avete fatto qualche passo per capire meglio di che cosa si trattasse avete incominciato a vedere che il medaglione faceva cadere di fianco a sé come quando si muove un bacile pieno d'acqua delle volute di luce che si perdevano nell'oscurità come se volesse cercare di illuminare a destra o a sinistra ancora non siete entrati in possesso di questo medaglione l'avete solo osservato avete osservato il grande mosaico sopra di voi adornato anche con delle piccole pietre preziose che punteggiano i punti focali in modo tale che l'occhio non si stanchi mai di guardare la figura nella grande stanza ci sono tre bracieri piccoli un grande bracere grande vuoto tutti vuoti e ci sono quattro piccoli candelabri delle piantanine con delle candele tutto attorno è una grande candela centrale una grande porta è sulla parete a nord mentre una porta più piccola di metallo è sulla parete in fondo a est ci sono dei disegni sul pavimento i più eruditi di voi riconoscono delle rune qualcosa di molto speciale si riesce a intrasentire all'interno di questa stanza qualcosa che probabilmente l'occhio umano non vedeva da diversi secoli le luci che sgorgano tutto intorno a voi illuminano dolcemente i vostri tratti tre settimane fa siete stati uniti dal caso da una chiamata alle armi qualsiasi ma adesso sotto terra dopo che per quasi due giorni avete vagato in dei cunicoli riuscite a vedere i lineamenti degli altri in modo nitido chiaro che cosa vedono voi gli altri cosa vedono di Atticus per esempio Atticus è un mezzelfo da cui ha imparato fidarsi fino a certo punto lui sostiene di essere un pistolero ma non tarmi da fuoco tradizionali ha un anello che evoca un'arma da fuoco magica e non è uno che si fa tanto vedere in giro che vuole passare sotto osservazione a un lungo mantello scuro verde scuro con cappuccio che tiene costantemente sopra tamarro come è capelli neri corvini e pelle molto chiara una cosa più strana del personaggio di Atticus è che alla cinta ha vari cristalli appesimo dei cristalli che quando cammina tintinano leggermente di loro che emettono un inflaibile bagliore la luce colpisce i lineamenti di Atticus per un attimo poi si sposta come se volesse vagliare chi si trova davanti al medaglione stesso è la figura più piccola del gruppo che ha una testa abbastanza grande delle scaglie colorate di un verde acceso che cosa vedono gli altri di Coe vedono sicuramente i suoi grandi occhi luminosi gialli e appunto questo riflesso fa sì che riescano entra a vedere appunto anche queste scaglie scintillanti color smeraldo e anche un piccolo pezzo di musino che esce dal mantello che porta ovviamente anche lui è incappucciato un mantello tra l'altro di buona fattura e questo questo muso questo insomma viso è un po' serpentino un po' draconico però è decisamente troppo troppo piccolo per essere effettivamente un drago un drago un borno qualcosa che gli somigli indossa anche un'armatura è un'armatura in cuoio borchiato e vi sembra a differenza del mantello vi sembra essere un attimino un po' più come dire raffazzonata ma non in maniera brutta cioè si vede che è stata un attimino sistemata probabilmente inizialmente magari non era della sua taglia stessa cosa per gli stivali che porta che sicuramente rispetto a tutto il resto del vestiario sono e anche rispetto a lui decisamente grandi per un esserino così piccolo però non sembra avere particolari problemi anzi sembra essere abbastanza fiero di questi di questi suoi nuovi stivali che ha recentemente ritrovato al collo porta una collana sulla quale sono stati appesi diversi denti alcuni a punta altri invece diversi di diverse forme e quello più più grande centrale è rettangolare e spicca rispetto agli altri e anche un piccolo braccialettino per il momento ancora vuoto ma chi lo sa si vedrà se raccoglierà diciamo altri piccoli tesori da un essere scaglioso all'altro la luce passa da un piccolo essere come Co a una creatura più imponente che ricorda molto di più la sua discendenza è una creatura dotata anche questa di scaglie giusto? sì esattamente Vixi in questo momento si trova al fianco di una di queste luci le fiaccole della candela brillano su quella che è un'imponente particolarmente pesante armatura in piastre che ricopre la grossa figura della dragonide o quello che appare tale proprio per via di questa di questa testa slungata in avanti le mani si portano le mani inguantate si portano alla faccia mentre solleva l'elmo e se ne priva mostrando un grosso delle grossi fauci draconiche occhi scarlatti che brillano illuminate dalla poca o fioccaluce della stanza ha una corona una coda di dreadlock bianchi che cadono tutti relegati sulle spalle della dragonide che presenta una stazza particolarmente ampia e sui due metri si potrebbe dire nessuno l'ha mai misurata fino ad adesso nessuno gliel'ha chiesto sia azzardato a farlo la veste l'armatura stessa è decorata di una moltitudine di oggettistica anche i suoi oggetti riportano qualcosa che richiama una storia in primo primo su tutto spicca quello che è un emblema al fianco del suo petto o quello che sembra essere uno stemma clericale riporta cinque teste che svettano le une verso in moltitudine di direzione richiamano una divinità antica che pochi conoscono pochi nominano e pochi evitano e molti evitano di nominare poi come armamentario possiede è ben equipaggiata ha uno zaino su cui svettano dei giavellotti un'ascia rinfoderata che i più attenti hanno notato avere altri dettagli che richiamano sempre il suo sigillo sacro queste cinque teste che si aprono morbidamente e finemente intarsiate all'interno della lama possiede anche uno scudo che porta al suo fianco sinistro sbatte contro l'acciaio dell'armatura pesante quando cammina è poco silenziosa non riesce ad esserlo di fatto cammina al centro del gruppo spesso e volentieri guardando con attenzione ciascuno dei presenti continua con quella che sembra essere un mantello di colore scuro nulla di che quello che risalta nell'attenzione di tutti è la stessa armatura che sembra avere dei riflessi particolari alla luce sembra un materiale finemente cercato altrettanto sono i guanti che porta alle mani roba che quasi riluccica illuminata da da queste fiaccole forse forse ha qualcosa di magico ma chi lo sa tutti potrebbero possedere roba magica al giorno d'oggi per quanto riguarda il suo il restare con il gruppo lei è sempre diffidente parla poco e osserva molto ha fatto poca amicizia con il gruppo nel corso del tempo molti la chiamano si è presentata come vixi non ha spiegato né storia né il suo passato o comunque da dove viene semplicemente sembra avere guardare avanti conscia di un obiettivo che nessuno sa ancora quale sia il suo sguardo comunque si volta si gira e si volta passando dal coboldo all'elfo che guarda stizzito e poi si culmina al gunslinger che termina semplicemente in una manciata di secondi e un ringhio sommesso il ringhio della dragonide passa di fianco all'orecchio di un'altra creatura che porta al fianco un simbolo o sul petto un simbolo che richiama comunque una divinità è così quinto? sì quinto è un testamento ambulante alla memoria dei suoi compagni anche lui si è presentato solo con un nome breve quinto che a quanto pare come ha avuto modo di raccontare a tutti quanti è semplicemente l'unico titolo che lui può portare da quando è entrato nell'ordine in quanto ogni membro di uno squadrone rinuncia per umiltà al suo nome e acquisisce solo un numero che lo colloca in ordine gerarchico e nella compagnia che si è incamminata insieme alla carovana quinto era l'ultimo dei cinque per un curioso caso del destino o forse proprio perché era l'unico nelle retrovie e l'unico non incaricato di combattere e anche l'unico a essere sopravvissuto ed è così arrivato a questo momento caricandosi di tutto ciò che poteva portare tutte le memorie dei suoi compagni in quanto non c'è stato né il tempo né la possibilità di seppellirne o di onorarne le spoglie e quindi ciò che vedono gli altri è un uomo di mezza età dai capelli radi dalla barba incolta di alcuni giorni e dal fisico massiccio anche se appesantito dagli anni che indossa un'armatura un'armatura pesante che evidentemente non è stata fatta per lui e che sul petto mostra il simbolo di un calice dorato anche la spada che maneggia con la rigidità di chi non vi è più abituato lo scudo e la balestra a guardarli bene sono tutte di fattura diversa hanno tutte dei simboli delle variazioni sul tema del calice e di un sole infuocato con una faccia all'interno perché ognuno di questi oggetti appartiene in realtà a una persona diversa ai suoi vecchi compagni alla cintura porta altri quattro simboli del suo ordine altri quattro ciondoli l'uniche cose a parte l'equipaggiamento che è riuscito a salvare tra tutti i membri del gruppo nonostante si veda che è un po' impacciato è quello che più cerca di aiutare e di darsi da fare proprio perché si è trovato nell'imprevedibile situazione di essere l'ultimo del suo ordine a dover mantenere alto il nome all'interno del gruppo nello specifico in questo momento dopo aver osservato l'occhio e l'altare ha deciso di dedicarsi ai mosaia alle rune che sono per terra basta guardarle basta guardare l'interesse con cui le scruta per capire che è uno studioso è un erudito prima di essere un guerriero forse lo era un tempo e chi lo sa se riuscirà a esserlo di nuovo di certo non si aspettava di dover prendere questo ruolo quando si è incamminato con la carovana mentre gli occhi di Quinto si abbassano verso il pavimento e incomincia a guardare bene le rune che sono come apposte in qualche modo che non è né un intarsio né uno scavo sembra che le rune siano state messe lì come se qualcosa potesse materializzare delle rune fisicamente e apporle su degli oggetti Quinto se ne accorge subito ti rendi conto che la lingua usata è una lingua antica molto antica molto più antica probabilmente sia dell'elfico e del nanico sono lingue andate perse ti rendi conto di aver letto qualcosa a proposito di questa lingua da qualche parte ti ricordi un piccolo versetto che hai letto colui colui che mangerà le pareti rinascerà dalla terra questo ti ti riporta al momento presente effettivamente non ci sono tante cose nella storia che abbiano avuto questo titolo però Utgar in un certo senso è stato colui che è partito per capire se veramente Rhodes e Neopross potessero essere quello che era stato definito il divoratore delle pareti di Voronet Voronet è la capitale di Eol ha delle pareti vive si dice che possono trasformarsi e rispondere agli attacchi in modo magico o qualcosa del genere gli occhi di Quinto si spostano velocemente per cercare di capire di più di quello che c'è scritto sotto ma è una conoscenza strana tipica il tuo cervello nonostante abbia trovato della tranquillità negli ultimi cinque minuti più o meno è stato provato dalla caduta di tutti i tuoi compagni la caduta anche del resto della carovana l'atteggiamento degli altri del gruppo verso questi eventi che tu hai vissuto come traumi sostanzialmente e ora fai un po' fatica a mettere a fuoco potresti con calma metterti lì scrivere questo versetto che ti ricordi e cercare di provare a fare una traduzione con lentezza a meno che tu non voglia farlo in qualche altro modo quinto è prima di tutto uno studioso e un erudito in questo momento forse stiamo vivendo per la prima volta da non so quanto un attimo di pace e io per quanto sappia che una per quanto sia consapevole che una pace fittizia e che è solo un diversivo per allontanare dalla mia mente il ricordo ancora fresco dei miei compagni morti decido di concentrarmi sull'unica cosa che so fare bene quindi lo studio la traduzione l'interpretazione quindi sì mi distrattamente con lo sguardo fisso verso il basso inizio a seguire come come un ubriaco ondeggiando il percorso di queste rune tiro fuori un pezzo di pergamena un carboncino e borbottando inizio a parlare tra me e me se qualcuno dovesse avvicinarsi mi sentirebbe dire esattamente questo il divoratore delle pareti rinascerà dalla terra e lo dico in maniera ossessiva borbottando mentre vado avanti mi appunto mi mordicchio le labbra cercando di trovare un filo di ripescare dalla memoria qualcosa mi estraneo dal resto mentre quinto fa tutto questo vedete che si abbassa un attimo incomincia a interessarsi a queste rune che sono per terra gli altri lo guardano per un attimo è un momento di fermo non sapete bene come aiutarlo se aiutarlo o fare altro guardo guardo gli altri il medaglione io non lo tocco no no coperplesso lui controlla bracieli bracieri e candele alte e poi controlla grossa pietra al centro prima che tutti noi esplode eh sì sì come è successo un paio di volte ok guarderò la porta in alto in alto verso noi già persa tanta gente no capita quando fai un certo tipo di lavoro siamo abbastanza non servono altri cosa fa fugli paladino e cosa c'è scritto lì Vixi schiocca le fauci mentre girando poggiando la mano sull'ascia si avvicina nella sua imponenza al suo fianco e china lo sguardo con gli occhi scarlatti che brillano nella luce posa gli occhi proprio sulle rune che sta indagando Quinto ha sentito quella frase ed è quella che le interessa Quinto le risponde distrattamente senza neanche alzare gli occhi lingua lingua antica mi sfugge sfugge dalla mia memoria a parte alcuni versetti qui e indica alcune rune qui dice colui che divorerà le pareti rinascerà dalla terra il resto non riesco a ricordare se l'ho visto da qualche parte non è di certo in nessuno dei testi che ho letto di recente però tutto qualsiasi informazione può tornare utile in questo momento prima di mettere le mani su questo medaglione troppi sono andati perduti per arrivare fin qui non dobbiamo sprecare questo momento poi finalmente alza lo sguardo verso l'alto visto che sebbene grosso non è di certo alto quanto la dragonide e la scruta per qualche secondo hai qualche idea ti ricorda qualcosa si vede che è un po' perso il tremore nella sua voce lo sguardo accigliato non è sicuro le tue parole mi sono familiari ma la lingua master riesco a comprendere qualcosa mentre i tuoi occhi incontrano la figura di quinto distrattamente riesce ad appoggiare lo sguardo su queste rune che effettivamente a te ricordano qualcosina in più le vostre due formazioni sono completamente differenti quinto templi cittadini un tempio molto stabile molto molto diciamo monastico per un certo punto di vista mentre Vixi ha imparato tante cose e ha unito tante cose insieme ha trovato una strada sua per seguire la sua fede e si è nutrita di tantissime creature che portavano la conoscenza nutrita nel gergo dragonide non è solo portato dentro nel senso di cibo ma portato dentro anche nel senso di idee o di concetti effettivamente sulla parte laterale delle rune a scalare come se una scritta fosse messa di obliquo verso la grande il grande altare centrale completamente disadorno riesci a leggere un nome che ti salta subito agli occhi neopros il grande drago che ha portato la notte agli elfi antichi mentre c'è quello piccolo scambio di battute tra di voi poi vixi siccome sei più alta riesci a guardare dall'altra parte di quinto vedi che cosi sta incominciando ad agitare per vedere se può fare qualcosa vedi che vedi che Atticus si stava dirigendo con lo sguardo verso la grande porta a nord rispetto a voi una grande porta di bronzo probabilmente o di qualche altro metallo particolare perché è imponente e riflette leggermente la luce che proviene dal medaglione e che si disperde poi in tutta la stanza riesci a leggere qualche piccolo versetto di queste rune dall'altra parte rispetto a te dalla parte opposta più o meno in prossimità dei piedi di Atticus la notte cela sempre la più grande delle luci posso fare una domanda in questo avevi parlato di braceri di candele in questo momento sono accesi oppure sono spenti e la luce viene dalle dalle torce che possiamo avere in mano uno di voi ha sicuramente una torcia in mano perché per tutto il corridoio di prima non vedevate non tutti non tutto il gruppo riesce a vedere in tonalità di grigio all'interno dell'oscurità più profonda quando siete entrati qui e quando il medaglione ha incominciato a emanare la sua luce dorata la torcia che avevate in mano si illumina come se dovesse rischiarare tutto il mondo ma la luce che c'è a terra è solo quella del medaglione i braceri sono completamente vuoti e emanano nessuna luce mentre le candele sono spente appoggiate sul candelabro non sembra che siano sciolte sembra che siano state appoggiate lì da tanto Ko effettivamente da qualche piccola parte nella tua mente si risveglia un ricordo dei braceri vuoti di qualche parte io ho già visti i braceri non uguali a questi ma ultimi braceri che io ho visto poi illuminati di viola in stanza con porta con occhio simile a questo e vi indica il soffitto io controlla meglio braceri magari loro collegati a luce e a altare vorrei controllare i braceri e vedere se per caso anche questi nascondono una qualche sorta di meccanismo come quelli che avevo incontrato in precedenza e poi anche la porta magari mica che appunto sono collegati magari a quella di abcp vai vai no io volevo dire che appunto in tutto questo io ascolto le parole di Co ovviamente io a parte ciò che ho già letto non vedo altro e a meno che qualcuno non intervenga dandomi altre informazioni a un certo punto Quinto raddrizza la schiena con un grugnito e strofinandosi strofinandosi il volto con le dita stanco provato a un certo punto sbotta vabbè fossi nella mia cella nel monastero passerei sarei felicissimo di passare le prossime quattro notti a risolvere questa charada ma direi che in questo posto il passare del tempo non ci renderà più saggi quindi se dobbiamo prendere un'iniziativa prendiamola e si avvicina lentamente al con lo sguardo misto tra lo spiritato e l'esasperato in quanto non riesce a trovare nessun tipo di nesso tra probabilmente anche perché è completamente esausto mentalmente tra le varie informazioni che sta ricevendo quindi lentamente si avvicina all'altare per osservare il medaglione appare assicurato appare bloccato fermo in qualche modo o sembra lì pronto per essere preso sembra appoggiato semplicemente appoggiato mentre quinto si rialza e guarda verso il medaglione appoggiato su questa pietra sul grande altare di Sadorno Co incomincia ad avvicinarsi al primo dei braceri fa capolino un po' la sua testa fuori dal cappuccio del mantello ben ben foggiato le scagliette rilucicano della luce dorata ti avvicini preferisci prendere la strada della logica capire se c'è qualche meccanismo nascosto o preferisci mettere a frutto i tuoi sensi puntare lo sguardo capire se qualcosa è fuori posto solamente guardandolo vorrei puntare momentaneamente come primo approccio sui miei sensi poi se effettivamente dovesse esserci qualcosa fuori posto allora cercherò di inserire idee in mia grande testa l'Xie è spazientita quando vede l'altro alzarsi di scatto semplicemente ribadisce con voce gutturale ma abbastanza scucciata dicendo la notte porta la vera luce che gli dei fratelli mi diano la guida nella sua mano risplende per un secondo di il palmo e una fiamma di vampa di cinque luci che si uniscono e alla fine culminano in nera e dorata lei la manipola fra le dita e la scaglia verso uno dei due braceri quando senti questa luce che si separa dalla tua mano e tutti quanti vedete che Vixie fa questa cosa senti la luce che si separa dalla tua mano è come quando ti pulisci la mano dalla sabbia senti una leggera sensazione di di abbandono e questa luce incomincia a vorticare all'interno del bracere vuoto come se non trovasse qualcosa in cui aggrapparsi senti vedete tutti che rimbalza come qualcosa che non riesce a stabilizzarsi all'interno come quelle pentole antiaderenti che qualcuno dell'est sta cominciando a costruire quando avete trovato gli ultimi mercanti ve ne avevano proposta una la luce dopo un po' che vortica all'interno del bracere si spande e incomincia in qualche modo davanti agli occhi increduli di di Ko a emanare una grande luce che ti costringono Ko a stringere un po' le palpebre visto che non sei abituatissimo a una luce diretta così vicina però vedi che sta succedendo qualcosa di strano alla luce in partenza aveva un colore simile alle scaglie di di Vixie o qualcosa del genere piano piano delle piccole vampate di viola incominciano a variare la tonalità della luce stessa facendola diventare prima azzurra e poi di un viola più intenso sembra che dentro il bracere dopo qualche istante delle fiamme fuoriescano come se fossero quasi eteree completamente viola Ko senti che non emettono calore senti che è sicuro anche metterci la mano sopra anche se ancora non lo stai facendo non emettono calore sei abbastanza vicino per capirlo stavi incominciando a osservare da vicino questi braceri ed effettivamente ti ricorda quello che è successo una volta nel tuo passato una luce violastra incomincia a contrastare quella dorata che esce dal medaglione quinto te ne accorgi grazie a un riflesso della tua armatura che diventa di un colore completamente strano e ti fa capire che qualcosa di strano è successo alle tue spalle mentre Atticus vedi la grande dragonide che lancia questa cosa dentro al bracere e questa cosa che era partita di un colore tenue diventa viola violastra e si irradia in tutto il resto della stanza non mi piace il viola devi dirmi cos'è successo dopo che hai acceso i bracieri quella è la parte importante ricorda e lo scuoto un pochino ricordati io ricordo anche senza scossoni scusa 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 la metto giù i bracieri accesi dopo che strano filo sottile passato davanti a porta poi noi aperto porta e bracieri accesi di viola viola come questo quindi signora Vixi se lei ha altre fiamme forse altri bracieri aiuta allora a questo punto mi avvicino a bracciare quello diciamo in alto a sinistra con un acciarino cerco di accenderlo senza usare mogie senza dare molte cose arcane attico stia vicini mentre ti avvicini in modo abbastanza sicuro e tranquillo come se non volessi dipendere dall'aiuto degli altri tiri fuori acciarino pietra focaia quando ti sporgi vedi che l'interno è vuoto completamente vuoto ti guardi un attimo le mani non c'è nulla su cui fare esca beh l'ho provato è verità in verità accendo scusate un po' di torse ne accendo una e la lascio brusare dentro la brazzavera giusto per vedere per sfermentare io vorrei accettarmi alla porta troppa luce per me troppa troppo tonore occhi accenderlo vai dopo che hai provato ad accenderlo accendi la torcia la lasci cadere nel bracere la torcia rimane appoggiata dentro con la fiamma che incomincia a divampare dalla sua dalla sua punta normalmente e poi a un certo punto a un certo punto qualcosa sembra incominciare a consumare la fiamma della torcia sembra che si stia come alcuni animali nutrendo di questa luce così vicina e vedi che incomincia la fiamma rossastra della torcia a farsi sempre più scura cupa e a un certo punto anche la luce della torcia incomincia a rilucicare di un violastro che inonda un'altra parte della stanza ti sembra Atticus che sei lì di fianco e qualcosa all'interno del bracere del bracere si sia mosso velocemente come se fosse scappato fuori qualcosa di minuscolo e si fosse allontanato da te mi rivolgo agli altri mi rivolgo c'è qualcosa qui dentro qualcosa di vivo più o meno qualcosa che si muove almeno e mi dirigo verso la direzione dove ha fuggito cercando di di cercare di prendere qualcosa nel vuoto senza esattamente sapere cosa sto prendendo come se volessi intrappolarlo ma come un bambino che segue delle farfalle invisibili che sono solo vere nel suo gioco Atticus si muove velocemente dopo aver detto una frase veloce al resto del gruppo vedi che questa cosa è schizzata si è staccata come una piccola scheggia ed è volata verso la porta Ko ti vedi Atticus piombare praticamente addosso a te seguito da questa luce violastra che ormai sta incominciando a darti molto fastidio perché ce n'è molta di più rispetto a quella che c'era prima e comincia a illuminare per bene davanti a te questa porta di metallo ti rendi conto che il metallo usato è molto probabilmente il bronzo perché ha dei riflessi strani non c'è una maniglia questa è la prima cosa che noti Atticus dietro di te cerca di prendere una cosa che però si infila come se entrasse nella porta come se non ci fosse neanche la porta e la stessa attraversando e gli altri rimangono a guardarvi un attimo attoniti sto bene sto bene sto bene sto bene ho scosto un po' il mantello ti guarda e ti dice tu uomo alto attento non pestare mantello bello di Co lui ha fatto fatica a trovarlo certamente un bellissimo mantello sai che ho grande cura di te e me ne vado via torno torno a vedere anzi sai cosa mi avvicino al bracere di prima vorrei vedere se con la luce violastra sono comparse altre run altre iscrizioni cose che non ho notato prima ti avvicini al bracere che hai illuminato grazie alla tua torcia ti avvicini lanci lo sguardo e grazie alla tua attenzione naturale ai dettagli piccoli noti che in fondo al bracere c'è qualcosa che prima non c'era prima avevi notato il fondo del bracere vuoto noti che man mano che la luce violastra si espande un piccolo anello compare dall'oscurità grande più o meno come una pietra d'agata io avvicino la mano lentamente per sentire se effettivamente scotta la fiamma o se fa del male anche se non scotta in qualche maniera e appena sento che potrebbe causarmi dolore li trago nel caso e vorrei prendere l'oggetto in fondo al bracere Atticus allunghi la mano senti per un attimo un trenito quando entri in contatto con quella fiamma quel colore violastro però non c'è calore non c'è nulla è come attraversare un'ombra di un altro entri dentro sei praticamente a metà del bracere con la mano stesa e gli occhi ti cadono su questo piccolo anello che sta comparendo dall'oscurità più profonda dentro al bracere prendo l'anello per esaminarlo tiro fuori il bracere effettivamente per esaminarlo tocchi l'anello incominci a sollevarlo con la punta dell'indice e il pollice della mano che hai inserito dentro tiri poi qualcosa di strano ti colpisce l'anello sembra dissolversi man mano che lo dà la luce quando riabbassi lo sguardo noti che in fondo al bracere stesso si sta riformando un anello del tutto simile desisto sui miei tentativi per ora quinto vixi voi che siete uomini e donne di fede c'è un anello sul fondo del bracere che non posso muovere perché si dissolve probabilmente avete idea di cosa possa essere le vostre mitologie e vi dicono qualcosa al riguardo è chiaro quinto ha passato gli ultimi minuti a guardare sterrefatto l'espload i vixi e Atticus che scappa l'inseguimento di qualcosa e che si guarda in giro e più passa il tempo più sul suo volto si disegna un'espressione preoccupata e tutto tutto ciò che stava covando emerge assieme nel momento in cui Atticus si rivolge a lui e a vixi come persone di fede e quindi si lo guarda con occhio spiritato hai detto bene amico mio non sarà non sarà l'intelletto a salvarci questa volta come non ha salvato i miei compagni prima come non li ha salvati la loro forza e il loro coraggio possiamo solo fare un atto di fede , non mi piace qui dobbiamo andarci recuperiamo ciò per cui siamo venuti e a quel punto avanza ancora sempre più vicino all'altare al medaglione tendendo la mano verso l'oggetto se nessuno lo ferma ha intenzione di allungare la mano e afferrarlo ma aspetta è la forza e l'audacia che in realtà ci aiuteranno dubiti perché sono soltanto i deboli quelli che sono caduti un'altra fiamma si palesa nella mano di Vixi e concluderà accendendo il restante dei braceri se qualora questi fossero spenti e solleverà lo sguardo all'occhio perché gli dèi ci stanno osservando io fermo un attimo la mia mano ti fermi ti fermi quinto mentre Vixi di nuovo fa esplodere questa fiamma all'interno del bracere come prima e poi del bracere più grande che è alle spalle dell'altare nel bracere l'ultimo della fila dei tre sempre uno di quelli piccoli anche qui compare una luce violastra che inizia a radiarsi tutto intorno e quando degli strumenti a corda partono a suonare e incominciano a trovare una melodia una risonanza una vibrazione comune nella stanza incomincia a esserci un certo tipo di atmosfera un'armonia strana che prima non c'era era tutta in desequilibrio verso alcune zone ora la luce violastra occupa tutto lo spazio davanti a voi ma quando si accende il bracere più grande il colore della fiamma è quello della vita reale una fiamma rossa una luce rossa intensa incomincia a contrastare la violacea incomincia a occupare dello spazio su tutta la parete di fondo enorme e quando avvampa sulla parete a sud vicino al bracere stesso e dove si è avvicinata Vixi per poterlo accendere compare un enorme affresco di una creatura adottata di scaglie con le zampe intente a stringere qualcosa al suo petto mentre le grandi ali membranose si aprono come se volessero proteggere tutto il corpo il lungo collo si snoda per terminare in una enorme testa coperta di scaglie con la bocca con denti aguzzi che fuoriescono un minimo l'espressione non è dura è come se stesse proteggendo qualcosa al suo petto tra le dita delle zampe Vixi incominci a vedere che è raffigurato qualcosa ti sembra quasi improbabile quello che sembra ma c'è un essere umanoide tra le zampe della grande creatura alata qualcosa di simile a un umano o qualcosa del genere completamente senza veli con i capelli lunghi una barba incolta sembra che abbia delle spalle enormi anche raffigurate anche raffrontate alla figura del drago l'unico segno che ti che ti riesce in qualche modo a indirizzare è una vistosa cicatrice sul lato della faccia dell'umanoide ti fa pensare a una raffigurazione che avevi visto tanti anni prima della semidivinità Utgar che sia lui tra le braccia del drago e questo drago questo drago che non ha colore perché le scaglie non rilucicano né d'oro né d'argento né di rosso né come la terra dei deserti sembrano completamente in colore come se avessero cercato di disegnare un vetro trasparente che può imprigionare la luce e spaccarla in tantissimi riflessi io sono in grado di guardando l'affresco di riconoscere o comunque ipotizzare che la figura umanoide raffigurata sia una rappresentazione di Utgar quando i tuoi occhi si abituano a questa grande luce rossa che si è accesa nel bracciale più grande come se fosse una fiamma incontrastata e incontrastabile vedi per un attimo la figura ti sforzi un secondo e poi effettivamente la tua conoscenza molto più studentesca di Daskalica di tutte le varie raffigurazioni e temi su Utgar visto che è una semidivinità tra virgolette giovane ti fa capire che potrebbe essere effettivamente lui la grande cicatrice ha una forma particolare sembra una specie di cerchio di fianco all'occhio che si allunga fin sotto il mento è una cosa che lui ha riportato in battaglia quando ha combattuto contro delle creature che per voi ormai sono solo mitologia ok ed è di Utgar la reliquia che noi cerchiamo giusto l'occhio di Utgar beh è tutto quello di cui Quinto ha bisogno una volta che ha appoggiato lo sguardo sull'affresco sull'immagine che è comparsa finalmente la sua espressione corrucciata si apre in un sorriso rasserenato il sorriso inquietante di chi ha trovato la fede ha trovato finalmente la vera fede nel buio nel buio di un sotterraneo ed esclama ed esclama a gran voce beh avevi ragione all'indirizzo di Vixi avevi ragione a quanto pare le fiamme hanno rivelato la verità e la verità è Utgar non ho bisogno di altre informazioni e a quel punto io voglio prendere voglio prendere il milione per me cioè non c'è altro da dire eravamo alla ricerca della reliquia di Utgar questo affesco lo raffigura nella mia testa uno più uno fa due non c'è altro da dire a giudicare a giudicare dal volto dal volto di Quinto probabilmente sta avendo un accenno di esaurimento nervoso e di crisi mistica quando tu stai per afferrare il medaglione Vixi semplicemente ti dice sai già chi lo sta ghermendo a Utgar è qualcosa che voi non potete capire potresti afferrando quel medaglione subire danni che la tua carne e la tua specie non potrebbero sopportare per me sarà divertente guardarti soffrire ma sei pronto a farlo nel nome della tua conoscenza non nel nome della conoscenza nel nome della fede è la fede mia e dei miei compagni che si sono sacrificati per portarmi fin qui e quelli che io ho fatto vivere la guardo con la guardo Vixi con sospetto le tue parole puzzano di blasfemia lontano miglio non avrei mai dovuto accompagnarmi a uno come te se pensi che non di aver bisogno di me esattamente come tutti noi abbiamo necessità l'uno dell'altro quello è qualcosa che le vostre menti non capiscono è quell'umano piccolo che prende il nome di Utgar e ha fatto la storia è quello per cui noi siamo venuti lo ripeto sei pronto ad affrontare le conseguenze di prendere quel qualcosa che stai per toccare e schiocca le fauci avvicinandosi a lui imponendosi dall'altro lato del medaglione gli occhi scarlatti riluccicano della stessa luce del medaglione mentre lo guarda chi nel capo in modo ferale sembra studiarlo forse giocarci ma non ha intenzioni ostili è curiosa co si intromette nel discorso e si avvicina a quinto e lo guarda dal basso e gli dice tu uomo alto in armatura scintillante se vuoi tu tocca pure medaglione ma prima aspetta che co controlla altare almeno tu non salta come tutti gli altri prima di te la mano di quinto è a pochi centimetri dal medaglione e nonostante il suo sguardo e la sua espressione siano di ferrea determinazione il resto del corpo trema è evidente che le parole di Vixi hanno instillato il dubbio in quella che fino a poco fa era una certezza granitica supportata dalla fede e forse anche dal desiderio di dare un significato alle morti di chi lo ha accompagnato fin qui ed è accoglie quasi consolievo le parole di Co aspettando un attimo fai il tuo lavoro se non ci sarà nulla se non ci sarà nulla io non ho paura tu tocca pure io però allontana perché luce è troppo forte per me quando dice non ho paura le narici di Vixi inspirano profondamente quasi annasarla quasi annasare la sua stessa determinazione o scetticismo quel che è è un un verso gutturale sembra divertita mentre lo scambio anche silenzioso di piccole frecciatine o grandi frecciatine tra i due continua Co cerca di fare qualcosa per il bene comune e si guarda un attimo circospetto intorno cerchi di capirlo in che modo se c'è qualcosa sull'altare vorrei capire se è presente qualche meccanismo che per sbaglio appunto si può attivare quando viene toccato questo questo medaglione vorrei prima di tutto guardare l'altare intorno giusto un attimo farci il giro intorno anche se comunque sia abbastanza infastidito da questa luce e poi invece controllare bene la piastra insomma dove discende se vuoi puoi fare affidamento ai tuoi sensi e quindi puoi tirarmi una prova di percezione mi fai un tiro nascosto al DM sì bene mentre c'è ancora questo piccolo scambio con Vixie che allarga le narici come se cercasse di ispirare la paura che naturalmente esce fluisce fuori dal corpo di Quinto Ko decide di fare un piccolo passaggio intorno all'altare per guardarlo bene in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi particolari ti rendi conto Ko che l'altare è completamente disadorno ma la pietra usata per costruirlo è sicuramente qualcosa di magnifico probabilmente un blocco di questa pietra in un mercato giusto potrebbe valere migliaia e migliaia di monete d'oro questo altare dovrebbe avere più o meno se è veramente stato intitolato a Utgar al tempo almeno circa mille anni e quasi nessun segno del tempo l'ha toccato non ci sono altri dettagli evidenti se non qualcosa che quando fai l'ultimo passaggio l'ultimo angolo passando di fianco all'altare come se fosse una piccola scheggia di luce si muove velocemente dall'altra parte si va a nascondere in mezzo ad altre luci per poi perdersi come una goccia di pioggia che cade nell'oceano e che non puoi più seguire posso cercare di capire da dove è partita però questo filo di luce l'ultima volta la prima volta che l'hai visto era in questo angolo qui e si è mossa in obliquo passando sotto alla piccola pietra che solleva di qualche centimetro il medaglione per poi perdersi nella luce violastra che proviene da quella direzione io comunque lo dico agli altri per sicurezza io ho visto luce luce molto veloce luce molto veloce partita da questo angolo è passata sotto a pietra poi però io ho persa vedi vedi che c'è qualcosa l'altro c'era qualcosa non sono troppo nulla tu hai ragione altare è molto bello pietra veramente molto bella io non ho trovato segni intorno ad altare io ora controlla sopra dove c'è medaglione noi attenti anche io non ho troppo sicuro fai di nuovo affidamento ai tuoi sensi o preferisci pensare dove tu nasconderesti qualcosa una domanda difficile io penserei a dove io nasconderei qualcosa co penserebbe a dove dove effettivamente nasconderebbe lui qualcosa fammi una prova di indagare sempre coperta vedete che si arrovella un attimo cioè si tocca un po' la testa lo vedete che un attimo si arrovella per pensare questo è più difficile rispetto a quello che ha fatto prima battandosi la grande testa tonda co avvicina lo sguardo alla pietra e per arrivare molto vicino a questa pietra su cui è appoggiato il medaglione devi per forza di cose fare un piccolo darti una piccola spinta con le tue mani verdastre sul resto dell'altare guardi benissimo sotto il medaglione senti che nell'aria si sta spandendo un po' di tensione perché ci stai mettendo un po' di tempo effettivamente per gli altri non stai facendo nulla stai solo appoggiandoti guardando facendo dei piccoli movimenti con la testa vedete che è lento in questa cosa ma perché vuole essere sicuro poi piano piano incominci a allungare le mani sull'altare più basso facendole strisciare lentamente sull'altare evitando di far scattare qualsivoglia meccanismo perché è solo lo sfregamento minimo indispensabile per sentire se c'è qualcosa con tutte le parti della tua pelle arrivi alla pietra che tiene il medaglione incominci piano piano con i polpastrelli a scivolare lungo la superficie della pietra come se ogni centimetro della tua pelle avesse dei piccoli sonar e ti avvisasse dei pericoli le asperità naturali della pietra si perdono sotto le tue scaglie incominci poi a farlo anche sopra arrivi a qualche millimetro dal medaglione stesso come se lo circondassi da un lato e dall'altro con le mani incominci a fare le prove a sentire se c'è qualcosa a pressione sentire se si muove in qualche modo il piano sentire se in qualche modo tu possa far scattare qualcosa e dopo circa tre quattro minuti di un'indagine approfondita dico ti senti di poter dire che non c'è nessun pericolo nel mentre in questi tre quattro minuti mi avvicino verso l'altarde in questa direzione qui e cerco di intuire le intenzioni di Co in realtà cerco di intuire le intenzioni un po' di tutti capire cosa vogliono fare qual è l'obiettivo di Vixie se vuole vedere effettivamente Quinto morto oppure lui oppure l'intenzione di Quinto è facile da capire trema un po' ma la mano è così da quattro minuti quindi anzi inizia anche a fascicolare un pochino una resistenza nel corso dell'avventura voi avete visto Vixie spesso e volentieri salvare alcune delle persone che hanno affrontato il viaggio ogni tanto capitava che quando qualcuno effettivamente fosse in estrema difficoltà e non riuscisse tramite la sua forza neanche a dare quel briciolo di aiuto in più lei semplicemente lo ignorava altri invece quando vedevano che avevano una forza di determinazione maggiore ed erano più d'aiuto li salvava e era abbastanza brava nel farlo esattamente come si è dimostrata d'aiuto fino ad adesso sapete che lei apprezza la forza e soprattutto la rabbia con cui le persone si trascinano oltre alla morte questo può creare timore può creare rispetto ma l'avete capita così lei semplicemente agisce quando e se ritiene necessario per adesso sta guardando aspetta e in draconico si bila un semplice beh allora neopros sarà la tua prova ok quando Ko finisce di fare il sopralluogo dell'altare io quinto la guarda di sbieco quindi quindi Ko dice che altare è sicuro non c'è Ko non ha neanche finito di parlare che quinto a pieni polmoni urla non ho bisogno di nessun altro segno allora e prende il medaglione allungo finalmente la mano e la stringo attorno al medaglione e con questo mi sa che auguro buonanotte però te la puoi fare però si allontana in un attimo mentre vede che quinto allunga la mano e che un atto di coraggio di fede un passo della fede appoggia la sua mano da mezzelfo sul sei un umano scusami appoggia la sua mano da umano sopra il medaglione che probabilmente è appartenuto a uno degli esponenti più di spicco della sua stessa razza quando quinto tocchi il materiale del medaglione senti che è un metallo duro che resiste in qualche modo alla tua presa come se non si volesse far stringere senti stringendo che la sua materialità è veramente presente poi in un attimo una sensazione ti incomincia a percorrere dalle dita della mano si spande sul polso per poi allungarsi su tutto il braccio i peli incominciano a rizzarsi come quando c'è elettricità nell'aria incominci a sentire questa sensazione che ti corre fino al petto fino alla parte sinistra del petto senti il cuore che incomincia a battere più forte come se un evento o qualcosa di strano ti stesse succedendo senti il cuore che pompa sangue per un attimo il tuo corpo reagisce gonfiandosi come se una nuova forza si stesse impadronendo delle tue braccia senti spessirsi senti spessirsi la tua pelle come se tu ora fossi in grado forse di fermare una freccia solo con la pelle vedi con occhi diversi le tue mani vedi che le pieghe naturali della pelle che si erano fatti in anni e anni di studio dopo aver fatto praticantato dopo aver servito gli altri incominciano a ritirarsi come se tu avessi una nuova giovinezza nelle mani le giri lentamente col medaglione in mano e vedi che tutte quelle ferite tutte quelle piccole piaghe che da qualche anno ormai attanagliavano il corpo non più così giovane di Quinto sembrano essere sparite da fuori è lampante Quinto ha allungato la mano ha preso il medaglione l'ha strappato al suo riposo di qualche millennio e l'ha girato nella sua mano avete visto che ha incominciato a guardarsi la mano ma quello che avete notato è che l'aspetto di Quinto come se fosse mutato sembra ringiovanire a vista d'occhio le rughe la piaghe le piccole macchie della pelle le imperfezioni della barba fatte in un certo modo i capelli con una piccola ciocca di capelli grigiastri che si allungavano e andavano sotto il mantello incominciano a diventare completamente folti neri le macchie di vuoto nella barba dovuto ai combattimenti passati dovuto alle sofferenze incominciano a ripinguarsi una barba nera grossa incomincia a prendere possesso del viso di Quinto vedete che il suo corpo da un pochino ingobbito stretto in un'armatura forse di un'altra dimensione rispetto alla sua si allarga le spalle di Quinto diventano più larghe senti i polmoni che prendono più aria vedete che i suoi occhi incominciano a brillare di un sottile bagliore azzorrognolo come se qualcosa li avesse magicamente incantati quando ti guardi intorno Quinto vedi che nell'aria stanno volando dei piccoli filamenti come delle ragnatele che si sono spezzate da quella principale che stanno volando tutte intorno a te hanno diversi colori alcuni si connevixi e cominciano come un ingranaggio a diventare parte della sua armatura e è parte della sua essenza mentre verso Atticus vedi che i filamenti lo sfiorano lo coprono e poi si legano a un anello che lui porta al dito mentre verso Co vedi che tutto il suo mantello è ricoperto di questi filamenti che cadono per terra come delle foglie d'autunno mentre altri piccoli spuntano si allargano e riportano il verde della primavera io tendo la mano verso questi filamenti vicino a me riesco a toccarli o sono impalpabili si attraversano sono completamente impalpabili la sensazione che hai è molto simile a una capacità che ogni tanto la tua divinità ti potrebbe concedere però non l'hai mai provata così vera così reale come vista vera come come poter afferrare qualcosa ti ricordi di quando hai usato questa capacità che ti è stata donata dalla tua divinità la capacità di vedere la presenza del magico intorno a te ma adesso è è come se tutto fosse lì non ho più bisogno di questi wow non vedo niente forse ancora bisogna di quelli Vixie sul volto sulle il muso di Vixie si allarga un sorriso mentre lei ti dice la curiosità degli uomini alla fine è ripagato bravo sei vivo ora cosa vedi giovane Quinto Quo è molto perplesso non ha non ha capito molto bene come sia possibile tutto ciò quindi l'unica cosa che dirà è forse il problema era in medaglione non in altare può essere non lo so con le deliquide non lo scaviamo bene assolutamente un velo è stato squarciato non ho si gia verso Vixie ovviamente è palese si vede che è convinto di quello che sta per dire ma tutti gli altri erano presenti fino a qualche secondo fa quindi sanno che non è così non ho dubitato neanche per un secondo della mia fede del mio destino cosa che ovviamente non è vera ma stringe il medaglione in mano e guarda gli altri con una rinnovata aria di superiorità e adesso andiamocene da questo luogo maledetto andiamocene a dire troppo ora dici ciò che vedi e muoviamoci prima che questo luogo diventi la nostra tomba anzi la vostra tomba tutti calmini qua adesso per tutti quanti sbruffoni ma questi filamenti questa nuova percezione ho visto che si condensano intorno a degli oggetti particolari nei nei vari nei miei vari compagni ma per caso conducono anche a uno dei vari delle varie delle due porte che avevamo per caso riesco a vedere un sentiero di qualche tipo o qualcos'altro che mi indica una strada da prendere effettivamente guardando poi intorno a te noti che ci sono dei sottili filamenti che stanno correndo come dei piccoli torrenti da da una montagna sgorgano e vanno verso valle e alcuni vanno verso la grande porta di bronzo mentre uno da solo singolo si allontana verso est per poi appoggiarsi sulla porta fatta di un altro metallo più scuro come se fosse semplice ferro e arrotolarsi al centro come se fosse un gomitolo di qualcosa che si allunga poi verso la base della porta stessa sulla grande porta di bronzo invece come dei piccoli fuochi d'artificio zampillano gli altri filamenti si scontrano e fanno delle piccole volute come se fossero delle piccole esplosioni quindi in risposta alla domanda di Vixie che non c'è ma in risposta alla sua domanda io punto il dito verso la porta di metallo scuro nella direzione in cui vedo il gomitolo e dico solo di là con assoluta certezza sei grossa abbastanza fa strada prego che lo starò indietro io ormai sono in preda a un delirio di onnipotenza quindi vado tranquillamente davanti medagliore proprio così col medaglione in pieno delirio di onnipotenza in pieno delirio mistico io vado avanti Quinto punta la porta di metallo lui vede una specie di gomitolo e alza il medaglione davanti a sé tenendolo nella mano e incomincia a incamminarsi verso questa porta di metallo più ti avvicini Quinto più vedi che questo gomitolo si disegna questo filamento disegna questo gomitolo al centro della porta per poi lasciar partire un piccolo filamento fino alla base quello che vedi poi è che il filamento stesso rientra all'interno del medaglione e così si propaga in avanti verso la porta disegna il gomitolo poi scende a terra e torna nel medaglione in un ciclo continuo come una cascata in ricircolo io provo ad avvicinare provo a anche se sono impalpabili provo a infilare il medaglione all'interno di questo gomitolo che io vedo o comunque provo e se passa attraverso e non succede nulla provo a metterlo in contatto col metallo della porta i pochi passi che ti separano dalla porta vengono coperti quasi istantaneamente dai tuoi piedi rinnovati nella forza e nella capacità di muoversi quando arrivi in prossimità della porta col medaglione ancora steso davanti a te in posizione lo imponi all'immagine della porta sentite tutti un rumore metallico come se qualcosa scattasse in un attimo e lentamente la porta incomincia ad aprirsi dalla parte opposta rispetto a voi nel senso che si apre verso l'esterno verso l'esterno io mi giro verso Atticus e non e non dico nulla lo guardo solo col sorriso di lo sorriso di un Gesù bambino di una pinacoteca rinascimentale si bravo bravo mi sono riso beato se mi avessero detto che aver fede portava a fare queste cose qui sarei stato un uomo di fede pure io vai avanti va non ho più paura di nulla adesso vedrai e che cacchio lasciatemi prima che io muoia male perché succederà lasciatemi un momento di gloria per favore appoggia una mano sulla gamba di Atticus per attirare la sua attenzione e gli dice io consiglio per te se tu vede gente che è come dire troppo alta troppo superiore tu abbassa il livello di Co così tu basso loro passa sopra e tu frega questa è un'ottima tattica dovrò considerarla effettivamente in combattimento e senti Co scommettiamo 5 monete d'oro che Quinto prende uno schiaffo appena attraversare la porta prego avanza un po' poi qualcosa sicuro succede io credo che riuscirà ad entrare nella stanza fare prestare almeno 5 minuti prima che veni schiaffeggiato bene prego Quinto io riguardo con un sorriso benevolo come una maestra d'asilo non abbiate paura io no certamente per voi non per me e porto avanti il medaglione e vado vado e lascio che sia che sia la mia nuova la mia nuova vista a guidarmi mentre allunghi il medaglione all'interno del piccolo corridoio che si è rivelato dietro la porta ancora le luci violastre illuminano le prime piastrelle che vedi essere di una fattura decisamente di alto livello qualcosa che forse neanche le mani del più saggio ed esperto dei nani potrebbe produrre allunghi il medaglione vedi che il filamento che seguiva dalla porta si rinfila all'interno come se fosse nascosto dentro il medaglione per tutto il tempo allunghi il medaglione dentro fai qualche passo all'interno del corridoio vedi davanti a te a breve distanza che qualcosa si apre davanti a te una grande stanza che si allunga fin dove la tua vista arriva più di dieci metri nell'oscurità e nella luce che dal leggera tenue dal medaglione si irradia fuori da sé dietro di te i passi di Vixi e Co e Atticus che stanno ancora scommettendo sulla tua presa schiaffoni la stanza che ti si presenta davanti alla fine del corridoio è una specie di otto una costruzione una specie di otto come se ci fosse una prima stanza che poi termina in un'altra stanza leggermente differente un po' trasversale il pavimento è di una fattura incredibile ti ci soffermi per qualche istante effettivamente sembra che qualcuna di quelle mattonelle sia stata fatta con un materiale che i nani hanno sempre chiamato cronite è una roccia al cui interno di solito viene trovato il mitril per intenderci e quando viene cotta come si fa con le mattonelle con la ceramica scusate diventa di un colore marrone chiaro quasi quasi ocra davanti a te non senti nessun rumore a parte il picco piccolo incedere dei tuoi passi e i passi dei tuoi compagni master posso fare una cosa velocissima prima di procedere anch'io nel corridoio vorrei zampettare velocemente verso il muro dove insomma abbiamo visto l'affresco di questa creatura alata tirare fuori una delle mie molteplici padelle che ho salvato apposta per l'occasione metterla per terra versarci dentro qualche monettina fare un inchino di rispetto e poi rizampettare al mio posto in fondo alla fila nel frattempo quando Koh fa questo corrispettivamente gli occhi di Vixi risplendono di una luce scarlatta mentre la sua stessa presenza si irradia per una frazione di secondi di pura magia e due dita indice medio risplendono mentre va a toccare la spada non ricordo che dotazione di armamento tu hai quinto ho una spada lunga mentre va a toccare la spada e la stessa prende ad illuminarsi di una luce intensa che possiamo dire fra il dorato è il grigiastro è un vorticare praticamente l'incantesimo è il canter per luce e attualmente tu irradi di sei metri di luce davanti a te attorno a te io sono effettivamente un faro di luce per chi mi conosce quindi direi che è appropriato io ho nascosto dietro ad Atticus ok vedo visto che visto che sono visto che sono il primo a entrare adesso che il radio ha ancora più luce a parte quella che può dare il medaglione vedo qualcosa in più a parte il pavimento di cronite vedi ricoprirsi la tua spada di alcuni filamenti di magia che vanno verso l'alto oltre a quella che compone anche la tua spada stessa la luce che si irradia nella stanza davanti a te incomincia a rivelare qualche piccolo dettaglio in più effettivamente prima ti eri perso un attimo nella vista dall'oscurità alla luce di questa stanza noti che sulla parete che state percorrendo che è la parete sud della stanza stessa c'è un altro grande mosaico purtroppo per la tua prospettiva in questo momento standoci praticamente di fianco fai fatica a capirlo però vedi le pietruzze che si illuminano con il baluginare della luce della tua spada e del medaglione mentre noti che più o meno a nord-est all'interno della stanza forse in fondo in una parete noti qualcos'altro che riluccica ma non riesci a capire bene che cosa sia forse qualcosa che potrebbe avere a che fare con l'altro mosaico che c'è qui dentro o qualsiasi altra cosa non mi sembra di vedere altre uscite da dove ti trovi adesso no io io avanzo nella stanza entri su per il piccolo corridoio ed effettivamente ti si apre la stanza in tutta la sua complessità il pavimento disegna alcune alcune linee oblique come se volesse ricordare in qualche modo le onde del mare sulle pareti ci sono due mosaici uno sulla parete sud dove vi trovate voi e uno sulla parete nord-est è una piccola parete come se fosse una specie di angolo che è stato abbellito da un mosaico di una splendida donna elfica attorniata da creature della natura con in mano tenuta una pietra preziosa come se fosse grande più o meno come un ciottolo di quelli che si trovano nei fiumi più o meno più o meno grande così vedi che lo mostra chi guarda il mosaico ed era proprio quella pietra che riluccicava nell'oscurità grazie alla luce della tua spada verso nord poi noti che si apre un corridoio abbastanza largo per passarci appaiati in due che termina in fondo con una parete e un'altra porta di metallo che sembra effettivamente aver subito un po' i segni del tempo e lì si chiude questo corridoio ok c'è una porta comunque mi dicevi a nord mentre il resto della stanza continua ancora molto lunga trasversalmente i filamenti che io vedo conducono verso questa altra porta oppure rimangono come dicevi prima in un gomitolo cioè vicino alla porta che ho appena attraversato quella che mi ha portato fin qui sembra che quella cosa che prima ti ha permesso di aprire la porta si sia come rinchiusa all'interno nel medaglione nel medaglione o qualcosa del genere ok e quindi se io se io mi guardo di nuovo all'indietro verso la sala quella principale che abbiamo appena lasciato vedo gli altri filamenti che conducono verso l'altra porta o non vedo più neanche quelli vedi qualcosa che si muove nella vostra direzione un filamento che si unisce ai filamenti che cadono dal medaglione e si disperdono nell'ambiente lentamente e noti che uno segue dritto lungo la parete sud di questa nuova stanza mentre l'altro si muove lentamente verso nord dopo un po' però lo perdi di vista io aspetto un attimo gli altri prima di muovermi mi sentisce posa una mano sulla spalla di quinto senti una presa abbastanza forte non sai se è sua però la senti abbastanza forte ti scosta qualora tu non ti dovessi spostare è un mero segno e va oltre perché proprio è nervosita da tutto questo chiamiamolo perdita di tempo allora dove dobbiamo andare cosa a nord bene fai strada non ho idea di quello che sto facendo vado a nord abbi fed no 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 questo lo dico io quinto quinto è convintissimo mi sento come a nord quinto è convintissimo era carino quinto è diventato finalmente protagonista della sua vita è una sensazione meravigliosa auguro a tutti voi di provarlo almeno una volta nella vita è bellissimo io vado a nord spinto anche da una dragone dei due metri che mi strisce in avanti io vado vado a nord seguo i filamenti gli stivali di quinto slittano per un attimo sulla matonella mentre vixi ti sposta e ti ti impone di prendere una decisione praticamente come se ormai tu per lei avessi tutte le risposte di questo posto è bello nella mente di quinto si compone l'idea vado a nord e incomincia a camminare verso nord i passi riecheggiano all'interno di questa stanza che ranamente fa una specie di risacca come se il suono si allontanasse per poi sbattere nell'angolo della parete a nord-est tornare indietro nella parete a sud e ritornare nelle vostre orecchie il suono non si amplifica di tanto ma sicuramente c'è un effetto strano per cui si può parlare di suono circolare quinto fa qualche metro si allontana di qualche metro dal gruppo e intravedi bene a questo punto sia la parete sia la porta di metallo che chiude il passaggio nella direzione a nord quando arrivi più o meno vicino alla parete vedi che il filamento che spunta dal medaglione sembra perdersi all'interno della porta e questa volta non forma un gomitolo con una striscia sottile verso il basso questa volta forma una specie di quadrato con una sottile linea in obliquo in alto a destra e continua verso fuori io ho detto che andavo a nord quindi continuo io faccio ciò che ho fatto prima appoggio il medaglione alla porta e vedo se si apre il suono del metallo contro il metallo riecheggia in tutta la stanza come se creasse decine e decine di eco si muove il suono dietro di voi risegue al contrario praticamente i passi di quinto si sposta a sud poi sbatte nella parete a nord est poi sbatte nella parete a sud si rimuove nel corridoio a nord e poi così via all'indietro come se quinto stesse sbattendo ripetutamente il medaglione alla porta ma in realtà lui anche abbastanza dolcemente l'ha appoggiato la porta che sembrava essere di un metallo ormai brunito dal tempo con delle sottili venature di di ruggine sparisce davanti agli occhi di quinto come se fosse stato risucchiato all'interno del medaglione stesso al di là della porta c'è quella che sembra a tutti gli effetti una specie di lo chiamerei una specie di atrio che si divide in tre strade una porta a ovest una porta a nord ed è molto a destra e a nord e una porta a est le strade a nord e a est hanno come passaggio obbligato una mattonella diversa dalle altre sul pavimento mentre quella che porta a ovest è un corridoio molto largo anche qui il corridoio è finemente decorato la stanza non è decorata come le altre non ci sono mosaici non ci sono freschi sul soffitto c'è semplicemente una rasatura di intonaco qualcosa di molto fine molto simile a quello che fanno gli elfi nelle proprie dimore cittadine di solito con un sottile velo d'oro una striscia d'oro che si muove dall'alto al basso come se disegnasse una specie di U continua una linea sinusoidale che si perde poi in tutto il resto della parete io mi volto verso Ko e lo indico è il momento di fare ciò che hai fatto prima e indico il naso io no avvicina a te con quella luce faccio faccio un passo di lato e indico la mattonella vicino a me sempre con un sorriso sereno direi sposta luce d'occhi dico se no Ko non riesce a vedere bene abbasso la spada cioè metto la spada dietro la schiena sposti il cono di luce che ormai la spada sta emanando il medaglione lo imbrigli praticamente nelle pieghe del tuo mantello per qualche istante per agevolare l'operato di Ko che con la luce ha un po' avete capito avere un po' di problemi ma al buio è come se fosse casa sua Ko si avvicina all'apertura della porta passa di fianco ad Atticus lo abbandona nelle retrovie poi sgattaiona sotto il grande dragonide guardandolo un attimo dal basso verso l'alto e si avvicina alla porta quando Ko passa un sibilo in draconico si porta verso di di lui lei non soccombere alla alle razze inferiori sai già cosa ci aspetta ecco ti risponde sempre in draconico dicendoti semplicemente si signora Vixi assolutamente io non soccombere io ho grande testa furbo io controlla trappole per noi così noi uscire poi guarda Quinto lo lascia fare il suo lavoro vorrei appunto controllare giustamente dove mi sta indicando di guardare per vedere se c'è qualcosa che non va io avevo indicato il naso in quanto tu ci avevi condotto la prima volta ci avevi guidato appunto tramite il tuo olfatto quindi il mio come dice esatto è quello vorrei capire un po' se il pavimento mi sembra tutto sullo stesso livello così da poter fare un passetto all'interno e poi appunto utilizzare diciamo il mio fiuto comunque i miei sensi per poter procedere si spera col favore del buio ti avvicini all'uscio ti acquatti sotto quinto che sta nascondendo le sue fonti di luce e mandi i tuoi occhi all'interno della della stanza per capire poi con un piede cerchi di sentire se la mattonella davanti a te è nello stesso piano su cui il resto del tuo peso è appoggiato effettivamente ti sembra di sì se vuoi puoi fare una prova di percezione per capire se vedi qualcosa di particolare intorno a te oppure se vuoi indagare in qualche altro modo puoi rifare tutte quella procedura per cui puoi capire se c'è qualche meccanismo strano no andrò andrò insomma mi affiderò i miei sensi vedete che Ko questa volta ci mette molto meno tempo sembra essere molto più sicuro di sé quando la luce non lo investe completamente forse questo è un elemento che dovreste tenere in considerazione molto più spesso poverino Ko ti guardi intorno guardi perfettamente intorno poi noti qualcosa a nord-est di strano le pareti sono normalissime l'angolo è normalissimo poi i tuoi occhi si abbassano verso la mattonella diversa proprio di passaggio tra i due corridoi uno che va verso nord e uno che va verso est vedi per una frazione di secondo un piccolo bagliore nascosto a livello di dove si dovrebbe emettere un battiscopa quasi a pochi centimetri da terra vedi un leggerissimo bagliore per un secondo come se qualcosa stesse in agguato allunghi ancora la tua vista non è proprio un qualcosa ma è un piccolo forellino che fa fuoriuscire una luce una luce rossastra che poco prima avevi scambiato per degli occhietti di uranio o qualcosa del genere ma effettivamente è una luce rossastra minuscola che si perde nell'oscurità del resto della stanza solamente gli occhi allenati di qualcuno che nei cunicoli ci passa tutta la vita avrebbe potuto notarlo capisci che c'è qualcosa di strano forse un meccanismo proprio no però forse quella zona lì potrebbe essere pericolosa ok allora vorrei avvicinarmi senza appunto è questa giusto la piastrella di cui stiamo parlando vorrei avvicinarmi ovviamente facendo un percorso sicuro fermandomi nell'imitare insomma di questa piastrella per vedere se in qualche maniera posso renderla sicura nel caso così non fosse avviserò gli altri che questa piastrella non è da calpestare poi ti muovi prima in verticale poi in orizzontale seguendo un percorso mentale che ti sei fatto con la tua con la tua esplorazione e con i sensi di tutta la stanza e velocemente arrivi a limitare di questa piastrella diversa dalle altre che viene quasi irradiata di una sottile luce rossastra sottilissima più piccola di un puntino a centinaia di metri di distanza guardi ancora più da vicino i tuoi sensi nell'oscurità quasi completa diventano molto acuti anche se distingui solo tonalità di grigio capisci che tutta la mattonella ha dei piccoli forellini che emanano questa sottilissima luce rossastra robabilmente come ti è già capitato alcune volte non è un meccanismo è qualcosa che ha a che fare con la trama come la chiama la gente alta col uscur come la chiama la tua gente la magia ok allora rifaccio la strada che ho fatto prima e dico agli altri noi noi non tocca questa piastrella noi salta questa piastrella perché qui c'è magia qui se noi tocca magia esplode credo sia ma sta chiaro grazie e poi vi lascio insomma libero il passaggio io controllo quale strada quale strada vogliamo intraprendere che strada dice tuo medaglione lucente cosa cosa dice il medaglione lucente master in quale direzione sembra volermi condurre adesso quando quando lo ritogli dalle pieghe del mantello dopo che hai fatto passare Ko e che Ko ti passa davanti per andare verso ovest e la luce del medaglione rientra all'interno della stanza è un pochino rischiara quello che c'è all'interno vedi che i filamenti del medaglione si muovono lentamente in tutte e due le direzioni sia verso est che verso nord per poi vedi e poi vedi un piccolo filamento che tenue si muove verso ovest come se fosse simile a quello che avevi visto sulla porta iniziale quello che poi è diventato un gomitolo o qualcosa del genere effettivamente per i più esperti di voi nell'orientarsi come come atticus verso è più o meno la zona da cui siete provenuti ok io di nuovo con lo stesso tono grondante di sicumera e di convinzione di esserne giusto punto verso ovest facendo cielo agli altri poi mi volto verso Atticus che ho visto rimanere in disparte e con fare con fare conciliante vado verso di lui gli metto una mano sulla spalla quella che non stringe il medaglione non è degno di poterlo toccare e gli sussurro è giunto il momento anche per te dimostrare la tua fede vieni accompagnami verso ovest verso la luce verso la libertà e verso finalmente una nuova era libera dall'avvizzimento allora quinto capisco tutta la tua buona volontà tutta la tua fede ma ti ricordo che io sono a metà di te in questo momento e qualcosa che potrebbe fare del male a te a me mi ammazza quindi per favore preferisco dove stare la mia fede da lontano io faccio per prendergli la mano no no allora se vogliamo sopravvivere devi ascoltare a me che in questo momento non sei in grado di intendere volere mi copro le spalle io provo provo ad accarezzarlo vedrai anche tu vedrai vedrai anche tu la luce prima o poi di questo ne parleremo dopo prima della prima della fine la vedrete tutti è sempre in grado vixi semplicemente si bilano tutte le luci si spegneranno al volere dei miei dei se non avete sentito miei dei non so cosa ti ha detto però mi fido purtroppo Quinto non parla il draconico quindi parla l'abissale il celeste non parla il draconico sapevo dove mettermi il draconico quindi gli sfugge guardo punto il muso verso la piastrella quella che irradia magia se là c'è una protezione significa che c'è qualcosa da proteggere quindi non perdiamo tempo in queste smancerie i ritualismi li lasceremo alla fine e lasciamo da parte questo egocenerismo abbiamo una trada da fare probabilmente morta calcolando che tutto si dirà una cosa tanto io vado ovest facendo attenzione a evitare la schiastrella che occupa tanto gentilmente a iniziare a per noi ovest intende di qua giusto ah si giusto ok allora comunque io vorrei seguire appunto l'ovest che non solo è dove c'è quel singolo filamento ma che inoltre sembra essere anche se io non lo so però giusto per intenderci cioè grossomodo apparentemente la direzione da cui siamo venuti come dicevi tu master anche se sottolineo che la mia decisione l'ho presa in maniera completamente arbitraria in base a questi filamenti mi posizioni in mezzo al corridoio ok quindi io vado a entrambi le parti fammi andare fammi andare a ovest con molta nel frattempo comunque si era già portato avanti diciamo nel corridoio perché giustamente voleva dare uno sguardo anche di sicurezza ok mentre Kho guardavi nell'oscurità hai visto comparire delle colonne all'interno di un grande spazio e gli altri che si sono riversati nell'atrio praticamente lo chiamerò così vedete che Kho si è lontano un pochino nell'oscurità guardando a destra e a sinistra a un certo punto Kho nella tua esplorazione solitaria vedi che queste colonne come se segnassero un passaggio importante si direzionano tutte nella stessa direzione in un grande corridoio centrale che va verso sud sembra che ci sia un grande corridoio poco lontano da te abbastanza largo per cui probabilmente due o tre vixi potrebbero stare affiancate poi vedi che la stanza che stai percorrendo questa specie di grande corridoio che si è allargato continua ancora a ovest fino a una parete e vedi che c'è una svolta verso nord nascosta un pochino dall'oscurità ma riesci a notare bene questa svolta verso nord quest'altro corridoio che si allunga verso nord io a parte ciò mi sembra comunque che le piastrelle siano qua tutte a posto non vedo niente di strano giusto? non ti sembra ok quindi posso comunque dire agli altri che se vogliono possiamo proseguire di qui perfetto allora io proseguo proseguo sentite la luce flebile di che dice qui c'è stanza molto grande stanza in cui Vixi starà bella larga molto spazio poi c'è corridoio che scende io ora va a vedere corridoio tante colonne quando superi l'angolo che ti oscurava la vista sulla fine del corridoio vedi che in fondo c'è un enorme porta di bronzo l'esterno il fianco della porta sembra decorato finemente sembra essere ricoperto di tantissime piccole foglie che si diramano da un ramo centrale che altro non è che l'impugnatura di una grande ascia che termina con una lama dentellata ma per assomigliare a dei denti non dentellata da spaccature da questa grande ascia partono questi piccoli rametti con tante piccole foglie alcuni piccoli fiori si uniscono in una ghirlanda abbastanza grande per contenere la testa di un essere umano medio in alto poi a destra sulla sul portale stesso sembra esserci una grande incisione in una lingua che tu hai imparato hai imparato a conoscere ormai in draconico in alto a destra c'è una grande incisione colui che prese in mano il suo destino riposerà per sempre peccato che io non sappia leggere il draconico potrebbe tornarmi utile in questo momento credo sento qualche debole attinenza con la mia situazione attuale così a pelle master volevo chiederti visto che Ko è abbastanza diciamo ferrato nell'esplorare i cunicoli o comunque sia le gallerie in linea generale diciamo è difficile che perda l'orientamento può comprendere che facendo questo giro che abbiamo fatto effettivamente quella che si trova adesso davanti a lui è la stessa porta che ha visto in precedenza nell'altra stanza lo capisci in un attimo Ko ok allora io lo dico a Vixi visto che è qui vicino a me mi dico quella è porta di altra stanza noi già passati da là quella è porta bella quella che noi non ho aperto perché non aveva maniglia andiamo facendo il giro però forse qui qualcosa c'è mi soffermo anche io guardare l'ascia e la scritta guardo con riluttanza quella specie di fogliette quel verde però provate ad avvicinarmici presenta qualcosa di particolare stringo il mio medaglione voglio trovare comunione con con la mia fede per un certo senso proprio perché ritengo che è così tanto distante quell'arma è staccabile dalla parete banalmente ti avvicini un paio di passi stringi il tuo simbolo che ti infonde una sicurezza degna dei più grandi della specie da cui discendi la porta che raffigura questa che raffigura questa grande ascia sembra essere stata incisa scolpita per prendere questa 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 forma non sembra possibile togliere l'ascia da lì sembra un basso rilievo qualcosa del genere effettivamente da questa parte della porta vi rendete conto che non c'è un modo per aprire questa porta in modo canonico probabilmente ok giusto per capire se ho compreso bene questa è la porta la seconda la porta che non abbiamo aperto nella stanza da cui siamo partiti esatto è sicuro al 99,9 perfetto quindi davvero abbiamo fatto il giro attorno alla stanza praticamente benissimo ha visto che c'era un corridoio che portava verso nord mentre stava arrivando qui quindi prosegue in quella direzione e dice qui corridoio continua porta molto bella ma noi ora cercare di uscire tanto noi no poter staccare porta per portare a casa come offerta pesa troppo oh sei tanto piccolo quanto saggio leggo la fede nei tuoi occhi io credo i miei occhi privi di emozione leggermente inquietanti il mio sommo signore illuminato lui sempre presente con Co e allora illuminiamo e di nuovo caccio Co va in avanti tipo tipo no no grazie ti ringrazio ma no scappa dal paladino illuminiamo il nord allora vorrei comunque sempre mantenere l'allerta sulle sulle piastrelle o comunque anche le pareti perché non si sa mai avendo come dire imboccato un altro corridoio io sono sempre molto prudente mentre invece Quinto va avanti con la sicurezza di chi non ha una preoccupazione al mondo con la sicurezza dei giusti esatto Vixi è abbastanza spazientita comunque ad ogni passo sembra diventare più frenetico e pesante la mano in sinistra si porta allo scudo e lo ritira vedete ora probabilmente per la prima volta con molta più attenzione due draghi che si intrecciano questi fossero una specie di ying yang uno è dorato e l'altro è di un colore translucido tendente sul nero puntella lo sguardo su Atticus ormai di quei due penso di averne capito qualcosa forse a te cosa ti spinge a buttarti in questo luogo il tintinnare delle monete d'oro non altro avarizia non dirlo non dirlo a quinto quella è l'unica fede che conta ti bisbiglia è un tono gutturale molto profondo avarizia la mia specie la conosce no no non è avarizia è sopravvivenza è diverso non ti non perdi la mia stima tranquillo non ho mai avuto l'occasione di un'istruzione superiore ho dovuto farmi più o meno tutto da solo ho avuto le fortuna certo come l'anello però per il resto doveva costruire quello che viene e sicuramente non voglio stare vicino a quinto quindi prego vai avanti io vado avanti senza alcun problema anche perché comunque il mio obiettivo finale al netto del delirio mistico è uscire o abbiamo avuto quello per cui siamo arrivati la reliquia quindi adesso io assolutamente sto cercando l'uscita quindi adesso mi dirigo verso nord mentre Vixi e Atticus scambiano qualche battuta che si perde nei corridoi quinto cammina con la luce spiegata in avanti mentre Ko è andato molto in avanza scoperta ha lasciato il gruppo dietro di sé le luci che il gruppo emana non riescono a raggiungerlo però Ko ti rendi conto di una cosa mentre stai per affrontare una curva a gomito che ti porterebbe a girare alla tua sinistra e quindi verso nord noti che c'è un'ombra strana cioè l'oscurità intorno a te è totale completa ma c'è un punto di oscurità che incomincia lentamente a vorticare su se stessa come se si avvolgesse da sola e incomincia a comporsi in qualche modo un'oscurità sempre più netta quasi tangibile e spunta dal corridoio a nord mentre succede questo incominci a sentire uno strano freddo nell'aria come se piano piano mentre quest'oscurità continua ad avvolgersi l'aria intorno a te si facesse fredda quasi come l'aria notturna sulle montagne alte senti leggermente nei corridoi un sottile lamento qualcosa che scuote i tuoi orecchi e un odore nauseabondo che si sta avvicinando alle tue narici allora se mi è possibile vorrei tentare di nascondermi accuattandomi per terra e coprendomi con il mantello certo arrivo la messo un secondo e poi penserò molto 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 intensamente all'uomo alto con l'armatura lucente che tiene in mano la luce orribile cercherò di far partire un pensiero dalla mia grande testa tonda e verde verso la sua e dopo di lui penserò anche all'altro uomo alto dalla pelle liscia con gli occhi insomma penetranti le orecchie un po' a punta cercherò di raggiungere anche lui e se mi riesce penserò anche a Vixie con le scaglie bianche bellissime e appunto vorrei che questo pensiero arrivasse a tutti e tre e si insinuasse nelle loro nelle loro menti il pensiero semplicemente è qui avanti c'è qualcosa che puzza molto e fa rumori strani voi venire qui e tentare di capire cos'è mentre con calma c'è silenzio se no lui sente mentre la mente di Co fraziona quasi in modo naturale i suoi pensieri come tre grandi fiumi si allungano nella stanza e incominciano a raggiungere la mente di Atticus la mente di Quinto e di Vixie Col nella tua oscurità mentale dove trovi la tranquillità dove vai a cercare la pace del respiro quando sei all'interno di un tunnel per riprendere fiato incominci in lontananza a vedere questo piccolo anello e dal piccolo anello vedi spuntare un dito che lo infila per poi trasformarsi in un braccio di una creatura un po' più grande poi via via compare tutto il corpo di Atticus ed infine vedi che dalla mano di Atticus spunta qualcosa che è capace di sparare fuoco contro i nemici sopra la sua testa però c'è qualcosa di particolare come se un'ombra lo toccasse costantemente l'altro fiume che vola verso quinto ti fa vedere chiaramente un vecchio seduto su uno scranno con un libro pesante davanti che continua a sfogliare all'infinito le le pagine come se cercasse qualcosa lentamente con tutto il tempo del mondo sembra che questo vecchio e canuto sappia tutto quello che sta succedendo nel mondo in questo momento l'ultimo fiume il più lungo dei tre colpisce Vixi e all'interno sempre della tua oscurità Ko vedi un enorme drago composto in tutte le sue parti delle grandi ali che si allargano membranose con delle punte che potrebbero trafiggere un cinghiale in un sol colpo poi dei grandi artigli vedi una bocca enorme e irta di zanne con delle scaglie bianchissime e bellissime domina su tutto quello che c'è appoggiata su una grande nuvola che ha delle teste multicolore che si spostano e si guardano a vicenda mentre la loro prediletta con una frusta sta muovendo le fila del mondo quello che sentite voi è la piccola voce di come la vostra testa che vi dice c'è qualcosa qui che ha un odore nauseabondo voi venire qui e cercare di capire che cos'è finalmente e corro avanti corro silenziosamente avanti mio signore seguirò il tuo richiamo si si quinto non ha fatto il collegamento che la voce nella sua testa è convinto di aver ricevuto illuminazione divina e quindi corre in avanti corre in avanti con la spada verso l'alto come una torcia olimpica mentre corri in avanti quinto e mentre corri in avanti anche Atticus lasciate lasciate le vostre spalle vixi per un attimo come se un attimo di tempo per capire come interpretare e agire questa cosa Atticus preso dalla foga superi eri un pochino più più veloce di quinto nell'agire quindi lo superi superi anche le ultime curve e incominci a vedere alla tua destra ad est un'ombra che sta ammassando ombre su se stessa sembra che si stia creando come un grande cerchio che vortica su se stesso e qualcosa come dei veli di ombra incomincia lentamente a squarciarsi e ad aprirsi mentre succede questo senti dei lamenti sempre più forti provenire da quella direzione e poi il freddo investe anche il tuo corpo sicuramente qualcosa di strano sta succedendo da quella parte vedi questa cosa di oscurità che sembra formarsi strapparsi per poi ricompattarsi che sta iniziando a espandersi molto più di una figura umana media sembra che adesso occupi almeno due metri di spazio oh no no buono quinto quinto corri io corro Vixie cammina in modo incalzante ma sempre abbastanza mantenuto non è che è trepidante di arrivare assieme agli altri nel frattempo semplicemente si arma prendendo la sua ascia dal suo fianco e con lo scudo ben saldo dell'altra di di mano va dietro ai suoi compagni lei il gelo per quanto possa impattarle addosso lo percepisce relativamente poco è la sensazione quella che fa storcere le narici e le fauci della dragonite l'odore investe tutte le vostre narici non sapete bene dove si accolgono l'avete perso di vista un po' di tempo fa e in questo momento i vostri corpi sono eccitati dall'adrenalina di una piccola corsa di un piccolo richiamo verso qualcosa di pericoloso vedete questa figura che quando Quinto spunta nel corridoio e si frappone tra Atticus e la figura d'ombra con il medaglione in mano finalmente i veli di oscurità e di ombra si strappano per l'ultima volta andando a formare nel cielo anzi al di sotto del soffitto a qualche metro d'altezza circa un metro più o meno d'altezza una figura umanoide con braccia gambe tronco una testa composti completamente da oscurità sentite il suo lamento nell'area qualcosa di veramente fastidioso per la mente da da gestire e capire qualcosa che vi penetra nel cervello vedete questa figura che si allunga per un attimo con la mano verso il medaglione di Quinto come se lo reclamasse poi non vedrete più la luce per un attimo una voce che riesce ad articolare poche parole si spande nell'area circostante mentre siete ancora indecisi sul da farsi vedete che la creatura d'ombra con gli occhi che sono due punti nell'oscurità brillanti si muove nella vostra direzione apre le sue membra e cerca di imporsi su di voi tiratemi l'iniziativa i primi tiri della serata che bello fare yes cominciamo a bere oh no so cos'è quello dove ho l'iniziativa io eccola qua e e dai la carrellata dei tiri più o meno io devo andare peggio ma è solo l'iniziativa mentre lui cerca di imporsi su di voi sentite il gelo che si spande nella grande stanza e poi vedete che la più veloce ad agire è Vixie colei che il gelo lo tiene lo teme di meno si semplicemente come l'avete già già vista fare tempo prima rapidamente inserisce nuovamente l'ascia nella nel nel fodero e per anticipare la presa stessa della creatura una la solita luce la solita fiamma di vampora di luce molto più intensa e si abbatte sulla creatura vorrei master lanciare fiamma sacra sull'essere per arrestare il suo desiderio di impossessarsi dell'oggetto mentre vixie vixie si prepara riporta la mente le parole veloci per per far comparire nella sua mano questa fiamma come prima prima era una situazione di poco pericolo ma questa volta la mente di vixie è un po' stretta da una pericolosità inusitata senti le parole formarsi nella tua mente le pronunci velocemente fai i pochi gesti che ti servono con una mano sola e la fiamma compare nella tua mano la indirizzi verso la creatura si apre uno squarcio per qualche istante nell'oscurità la fiamma sembra avere effetto sulla creatura fammi pure un tiro per colpire anzi ah si ora bersaglio l'individuo doppio tasto destro se vuoi si dovrei averlo bersagliato e ora tiro la sbloccato da una wall ok devo fare un passetto in avanti più di un passetto lol ok un attimo scusate i problemi tecnici bersaglio e tiro standard vai devo fare tiro salvezza il sembra che la fiamma si spanda per un attimo non so se sia 13 però probabilmente la scheda no perché ricordo di aver calcolato 15 però non è un problema tiro il danno no no era rimasto impostato tanto ha fatto un numeraccio ve lo dico sono i primi tiri di dado posso rivelare questa la fiamma di di vixie come prima ha acceso i braceri questa volta illumina dall'interno questa creatura d'ombra che sembra squarciarla per un attimo questi filamenti d'ombra si sprecano per terra come pergamene in una biblioteca che viene data al saccheggio da dei barbari per un attimo una luce di qualche tipo probabilmente proveniente dalla tua divinità vixie ti aiuta ad avere per un attimo la meglio sulla creatura ma qualche istante dopo sembra che l'oscurità riprenda il suo corso si riattacchi in qualche modo alla creatura stessa che continua a essere in attesa vuoi fare qualcos'altro come come azione bonus è giusto non faccio nient'altro se non riprendere l'ascia e ringhiare alla volta della creatura dicendogli fuori dai piedi feccia profanatore mentre vixie usa queste parole verso la creatura d'ombra quinto ti senti abbastanza rapido per poter agire quinto alza alza il medaglione che ormai considera il suo nuovo simbolo sacro e urla in direzione urla in direzione dei suoi compagni non temete abbiate fede nella luce e io lancio come incantesimo benedizione io posso appunto benedire fino a tre creature a mia scelta quindi ovviamente entro gittata di nove metri quindi direi che siamo tutti comunque vicini e per un minuto chi deve fare tiri per colpire o tiri salvezza può scegliere di tirare un dato da quattro e raggiungere il numero del tiro ottenuto su chi lanci benedizione ma io lo lancio su Co e su Atticus perché in tutto questo io rimango con un per me rimane sospetto che Vixi sia una blasfema cosa che avevamo detto un po' da quindi tutto un po' che ci mancherebbe i abbandoni lasciandoti cadere per un attimo all'indietro sui talloni alla preghiera della tua divinità è come se ti immergessi in un'enorme fonte d'acqua senti che le parole della divinità ti investono non le hai mai sentite così chiare come da quando hai il medaglione nella mano senti le parole della divinità vicine all'orecchio come se ti suggerisse in un modo istantaneo quello che devi dire e quello che devi provare per emanare questa benedizione da te fortunatamente Co prima aveva stabilito un contatto mentale che si interseca col filamento di magia e permette alla benedizione di seguirlo fino a co stesso vedete che Atticus viene investito da una sottile luce bluastra con dei piccoli simboli che ricordano il simbolo sacro che di solito Quinto mostrava quando doveva utilizzare la magia senti il medaglione che freme nella tua mano senti che ingrossa ancora di più il tuo bicipite come se tu stessi stringendo un'arma e appena termini le parole dell'incantesimo che hai voluto dare ai tuoi compagni e riapri gli occhi per riprendere la posizione di doveri vedi che nella tua mano destra dove stringevi il medaglione ora stringi l'impugnatura di una spada che non è mai stata in tuo possesso sembra che abbia un sottilissimo velo azzurro che ricorda delle fiamme vuoi fare qualcos'altro Quinto? no tono no azione bonus o atto quindi no passo anche il turno quando senti qualcosa che si impadronisce nel tuo corpo e tu riesci a vedere te stesso all'interno del mantello ricoperto da un sottilissimo velo azzurrognolo con dei piccoli simboletti che non hai mai visto ti guardi per un attimo e la luce ti ha raggiunto anche qui effettivamente piccolissima luce ma ti ha raggiunto anche qui cercherò di non guardarla proprio diretta e direi che si trova in una situazione un po' spiacevole perché è stato circondato dai suoi amici da una parte molto contento che stiano tutti cercando di proteggerlo visto che lui è piccolo però dall'altra ha anche paura di prenderli dentro per sbaglio nel tentativo di attaccare questa bestia puzzolente quindi decide di picchiettare i talloni dei suoi stivali e di prendere letteralmente diciamo il volo per spostarsi in una zona più tranquilla con meno insomma possibilità di fare del male ai suoi insomma al suo gruppo quindi spicca un balzo e si porta adesso non riesco a farlo in in un coso solo perché c'è il muro si porta qui e una volta arrivato qui si concentra cerchi di mantenersi nascosto? no perché ovviamente penso che una volta ha fatto un'azione anche se in realtà non ho fatto un'azione contro di lui cioè sono soltanto andato di là se vuoi potrai trovare a muoverti mentre voli come un'ombra che corre sulla parete nell'angolo in alto quindi sembra molto molto bello molto scenico come parte dell'azione di movimento puoi fare una prova di fortilità se vuoi va bene sentite per un attimo un sottilissimo rumore dietro di voi qualcosa che sbatte e poi Ko tu senti una sensazione come se lo stomaco venisse stretto e portato verso l'alto il tuo corpo incomincia a essere trasportato tutte le volte che prendi il volo sei un pochino disorientato su come mettere il corpo non è ancora tanto tempo che cioè non è già tanto tempo che sei esperto di questi stivali nuovi quindi cerchi di bilanciare bene come se tu dovessi direzionarlo con il resto del corpo poi arrivi più o meno al soffitto circa tre metri e mezzo di altezza e veloce come un'ombra ti sposti dall'altra parte del corridoio ancora secondo te completamente invisibile effettivamente quando sorpassi la creatura di oscurità non sembra accorgersi di te dentro di lui co ringrazia tutti i suoi antenati e tutti quelli prima per aver vegliato su di lui in questa difficilissima impresa e si concentra nel tentativo di colpire diciamo alle spalle la creatura vedete apparire della effettivamente luce molto pallida all'incirca in questo punto per pochissimo tempo proprio una frazione di secondo e poi sparisce come se come se in realtà non ci fosse mai stato come se fosse stato proprio un battito diciamo di ciglia e provo ad utilizzare le mie lame sì ho una domanda il tiro lo faccio normale o con vantaggio di vantaggio vantaggio ok come 29 mentre c'è qualche quadra che non può perché hai anche benedizione mentre componi nella tua mente la la forma della lama che sei abituato a evocare qualcosa ricopre questa sottilissima luce pallida di una piccola patina azzurrognola e imprime sulla tua immagine della lama un piccolo simbolo la lama schizza velocissima come una scheggia di un di un pezzo di legno che viene spezzato a mano e colpisce la creatura di oscurità squarcia il velo dell'oscurità e apre alle sue alle sue spalle una grande bocca urlante di dolore sembra che tu abbia avuto effetto il tuo colpo e sembra che tu sia riuscito in qualche modo a trovare un pertugio per l'oscurità più profonda che compone questa creatura quindi co puoi squarciarla e mentalmente riesci a imprimere alla lama anche un sottile movimento che va imprimere un'ulteriore ferita mi tiri sia i danni che l'attacco furtivo va bene srotoli suoi danni signore la creatura viene sconquassata da qualcosa alle sue spalle quinto atticus vixi ve ne accorgete vedete che qualcosa è partito dall'angolo in alto e poi vedete in alto la figura di ko che è appollaiato appoggiato in qualche modo all'angolo del corridoio ma a tre metri d'altezza questa cosa vi ha sempre fatto strano ma vista all'interno di uno spazio ristretto è ancora più strano è come se ko fosse diventato per un attimo un ragno invisibile e fosse spuntato per attaccare questa creatura vuoi fare altro ko? ma si è arrivato lì con la mia zone bonus cercherò di rinascondermi appiattendomi sulla parete con il mantello avere fede è un'azione bonus tiro un coppino a quinto due coppini vai fai ponere la prova se vuoi eh sorry non l'ho non l'ho fatto a coperta non ti preoccupare ko ti riavvolgi di nuovo nel mantello e ti appoggi alla parete cercando di mantenere una posizione stabile per qualche istante per poi far scivolare la tua volontà e quindi scendere lentamente con gli stivali e diventare completamente invisibile a un occhio inesperto dopo di te Atticus tiro un altro coppino a quinto e gli faccio giù la cazzo di testa è un'azione bonus anche il coppino no l'azione bonus mia invece è pronunciare la parola magica e dall'anello si spritzano le scintille di luce che vanno a formare la pistola nella mia mano la pistola è molto allungata non ha una vera canna davanti è praticamente piatta e sui lati ha tre cristalli come quelli che portano la cintura e miro verso la creatura e sparo vai come ha detto come ha detto la pistola compare nella mano di Atticus effettivamente ha bisogno di spazio da parte di di quinto quindi ti fai spazio allunghi il braccio per prendere la mira e esplodi un colpo il rimbolo la verità non esplode il colpo ma un flash di luce che è simile di fianco all'orecchio di quinto molto vizzino più vizzino di quanto si è confortevole la luce ti penetra un attimo la cornea quinto ti passa davanti molto veloce esplode e questa luce investe tutto quello che ha davanti fino a ristringersi intorno alla creatura d'ombra e a colpirla sembra che tu sia andato a segno Atticus vediamo i danni tortice il colpo però viene in qualche modo assorbito da una parte di oscurità all'interno del corpo della creatura d'ombra sembra che tutta quella forza quella luce abbia avuto uno stop di qualche tipo forse i veli di luce hanno i veli di oscurità hanno imbrigliato la tua piccola palla di luce che avrebbe potuto benissimo stendere un cavallo o un cinghiale questo lo sai di certo non sai bene come sia la come sia la fisionomia della creatura però qualcosa ti dice che forse ad alcuni tipi di attacco potrebbe essere resistente vuoi fare altro Atticus Atticus nella sua enorme saggezza e esperienza gli spara di nuovo secondo attacco mi sembra corretto vai 26 di nuovo prendi la mira anche meglio di prima e fai esplodere di nuovo questa luce sopra la creatura il colpo è abbastanza preciso segue la traiettoria dell'altro però si espande un attimo prima di arrivare al corpo della creatura che non fa in tempo ad assorbirlo con i veli di oscurità come ha fatto prima e la luce incomincia a far dipanare l'oscurità come se fosse cenere sotto un vento molto forte che incomincia a portarsi via questa oscurità mentre cade tutto a terra i veli di oscurità e tutto il resto senza che abbia avuto ancora modo la creatura d'ombra di nuocervi in qualche modo sentite nel corridoio qualcosa di molto pesante che sta strisciando sulle mattonelle un rumore metallico sulle mattonelle di roccia poi improvvisamente sentite una piccolissima luce nero violastra prorompe dal corridoio a nord dove si è nascosto Co per sapere che cos'è però dovrete aspettare la prossima volta oh no non ci credo un gaslink fa due colpi di seguito che non assegno non si era mai visto non si era mai visto concordo l'ho giocato bene 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 ragazzi spero vi siate divertiti grazie del tempo che ci avete dedicato io ve lo dico mi sono divertito poi spero di avere altre possibilità di tornare live speriamo di continuare a finire questa one shot abbiamo deciso di di farla un po' per farci per far vedere i nuovi poi Joe fermami sempre quando io vado sai che sprodo no no assolutamente abbiamo una piccola anticipazione se ovviamente i giocatori qui in sala vorranno proseguire questa avventura io sì personalmente parlando che domande e ci vedremo in una seconda parte di questa di questo clipfanger con tanto di di grande grande creatura alle porte master niente concludi questa ringa concludi questa questa live perché comunque è in onore della tua e della presentazione della buona Chiara aliasco e anche delle vecchie guardie quindi niente prosegui pure senza problemi e allora se volete giocare se volete vedere giocare se volete sentire giocare se volete stare in silenzio in un canale discord in cui tutto vi passa di fianco come delle frecce in una in un campo di battaglia insomma se volete partecipare a qualsiasi cosa all'interno della taverna noi vi aspettiamo tutto il giorno tutti i giorni in modo ininterrotto qualcuno c'è sempre anche solo per chiacchierare tutti i nostri contatti social e tutti i nostri contatti e social sono sempre a vostra disposizione ragazzi scrivere un commento positivo un commento positivo e benevolo vi prego è bene accetto noi lo accettiamo volentieri anche se avete critiche scritte sempre in un modo costruttivo comunque per quello che avete percepito sentito a noi ci fanno solo crescere capire in cosa migliorare se vi siete divertiti ditelo a tutti quelli che avete intorno fateci una pubblicità buona se non vi siete divertiti ditelo comunque così la gente comunque viene a vedere la fregatura non l'avete presa solamente voi condividete condividetelo con i vostri amici unitevi al server discord basta io sono Monul e qui ho finito abbiamo postato anche il link di telegram per chiunque voglia aggregarsi alla community quindi per la prossima volta rimanete sintonizzati che la taverna è sempre presente ringrazio ovviamente tutti i partecipanti do nuovamente un caloroso benvenuto a Chiara a Monul un bentornato al buon Valker e un davide come al solito vuoi un caffè a Davide ci ritiriamo per la serata un amaro noi ci ritiriamo per la serata e grazie per aver partecipato siete sempre molto calorosi grazie per la live e ci vediamo mercoledì prossimo grazie ciao buona serata buonanotte 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 ciao buonanotte 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 grazie a tutti buonanotte 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.